Questo video era da fare, vediamo, c'è una cosa brutta, quella che sta nel titolo, cioè non sarà un video puntato neanche monetizzato, niente di che, mi ha detto che poi era monetizzazione, ma sono cose mie, cioè la morte di Astori, cioè parlarne qui, cioè non si sa com'è morto, appena ho sentito della notizia, ho detto cazzo, cos'è successo, è morto il capitano della Fiorentina, aiuto, boh come giocano contro l'Udinese, Cioè, non capisco come hanno detto che forse è deceduto nel sonno per un arresto cardiocircolatorio, ma, cioè, Astori a 31 anni ci ha lasciato, e rimarrà nel corretto di alcuni tifosi della Fiorentina, perché era la capitana. Certo, io non è che mi interesso alla Fiorentina, ma si può capire che è sempre calcio importante, calcio di Serie A, cioè, un po' tutto il mondo adesso lo sa che è morto a Astori, e poi figuriamoci in Italia, cioè, una cosa bruttissima, io non capisco anche come sia potuto accadere questo arresto cardiocircolatorio, perché, cioè, sei un giocatore in forma, nel tuo miglior periodo di forma, 31 anni, cioè, è ancora un... cinque, sei, sette anni, davanti. Poi, non penso che si fumi le canne, si droghi, oppure faccia come Pazzini, così, che invece di fare così fa così, ma non lo so, ci sto poi ridendo sopra per non piangere, cioè, non capisco... un po' da prenderla di tristezza, un po' da prenderla con domande per capire come è successo. Poi, vabbè, adesso, dopo che vedete questo video, dopo che l'ho fatto a questo video, ci saranno sicuramente chiarimenti su questa cosa, vabbè, ci saranno sicuramente chiarimenti su questa cosa, quindi... Astori, vabbè, adesso lo cerco su Google, è il sito Davide, Davide Ht, vabbè, finché adesso, vabbè, che è morto in albergo. Era morto... Vediamo come è morto, cioè, una cosa assurda, brutta, non lo monto neanche sto video, perché non va... e hanno rinviato la partita contro l'Udinese, perché... perché no, cazzo, non ti carica, adesso mi dimentica, merda... Astori è morto inottata, era una bella con l'Udinese... e io mi trovo adesso a voi... Ma che cazzo... Vabbè... Mh... Era difensore della nazionale... Hanno rinviato giustamente l'incontro... Hanno rinviato... Genoa Cagliari... Fiorentina, vabbè... Preghiamo tutti, tutti a pregare per la Fiorentina... perché... non mi sembra giusto... che... vabbè... Lutto... Della Fiorentina... Lutto... Adesso dobbiamo pensare avanti... Quindi... Troveranno sicuramente un nuovo capitano... Spero che la Fiorentina si riprenda, ma non penso che si riprenda entro maggio, entro... Quindi... Spero che questo video vi sia piaciuto... Iscrivetevi... Comentateci... Al prossimo video... Pray for Fiorentina... Pray for Firenze... Per Fiorentina...